Ci troviamo presso l'ospedale Guido Compagna dell'Area Urbana di Corigliano per testimoniare quella che è un'importante iniziativa, un'importante servizio appunto a favore di tutta la cittadinanza e non solo. L'inaugurazione e l'attivazione del centro di procreazione medicalmente assistita di primo livello. Ne parliamo con il dottor Gaetano Gigli che è primario dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del nosocomio che ringraziamo per aver accolto il nostro invito e che non ha bisogno di presentazioni. Dottore Gigli, un importante tassello si aggiunge al mosaico dell'assistenza sanitaria a favore delle popolazioni della Sibaritide e non solo. Di che cosa si tratta? Innanzitutto ringrazio voi di essere venuti perché la divulgazione di quello che sono le nostre iniziative è importantissima. per la conoscenza delle pazienti di quello che possiamo offrire. E' un, come ha detto lei, un piccolo passo nei confronti della gente che è della sanità in genere che in Calabria e in Italia, in Calabria in particolare, sta soffrendo moltissimo la sanità pubblica e lo sappiamo, lo tocchiamo con mano a tutti quanti. E' solo grazie alla volontà del gruppo, della dirigenza dell'ASP, del commissario La Regina, ma soprattutto di tutto il gruppo di ostetrici e ginecologia, di tutto il personale. Veramente tutto si è impegnato, lo vedete anche voi, nelle piccole cose. E siamo riusciti a creare qualcosa che può essere al servizio della popolazione, delle donne in particolare. Non a caso abbiamo scelto questo giorno per l'inaugurazione. E come altro atto simbolico abbiamo scelto i colori del giallo e blu, in senso non per schierarci verso qualcuno, ma in senso della pace. Perché è una cosa molto importante per noi mandare avanti tutti questi segnali e offrire, possibilmente, e questo sarà il tempo a dimostrarlo, alla popolazione un qualcosa che qua in Calabria manca, o quantomeno in senso pubblico manca, e soprattutto per offrire un servizio a tutte quante le donne che hanno una problematica di questo genere, alle coppie veramente. La dottoressa Congetta Perri è la responsabile appunto di questo servizio, del centro di procreazione medicalmente assistita di primo livello. Dottoressa, una data certamente non casuale, quella dell'8 marzo, per inaugurare appunto tale servizio che si rivolge alle donne e più in generale alle coppie. L'erogazione, la garanzia di un importante diritto. Nello specifico di che cosa si tratta? Si tratta di iniziare un percorso con le coppie che qui in Calabria manca. Purtroppo c'è tantissima richiesta e pochissima offerta per quanto riguarda pubblico. è l'importanza di dare e fornire a tutte le coppie, che sono forse anche il 15-20% del totale delle coppie in Italia, un servizio per un'equità e una maggiore opportunità di accesso alle cure a tutti, indistintamente, non solo per chi può permetterselo economicamente. Quindi noi nel nostro piccolo inizieremo un processo diagnostico in toto per evitare questa migrazione sanitaria della coppia, per inviarla poi alle tecniche, nel nostro caso, in questo momento di primo livello. Ma ci auguriamo, quindi l'inseminazione intrauterina, ma ovviamente ci auguriamo di salire di livello, se Dio vuole, anche con l'aiuto della nostra azienda sanitaria. Il dottor Giovanni Gesmunto è dirigente medico dell'Unità Operativa Complessa di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Guido Compagna di Corigliano. Dottore, alla luce anche di questo importante servizio che viene inaugurato quest'oggi, quali le prospettive dell'offerta sanitaria sul territorio? Chiaramente con l'inaugurazione oggi di questo, per meglio dire con la rimessa in funzione di questo centro di procreazione medicalmente assistita, è quello di offrire chiaramente al territorio e alla popolazione un servizio finalizzato alla risoluzione di quelli che sono tutti i problemi della sterilità di coppia, in maniera tale soprattutto da rendere il più agevole possibile l'ingresso di queste coppie in un centro facilmente raggiungibile e più facilmente gestibile. Chiaramente questo per noi è un modo come Nattlo anche di metterci in discussione su quello che è un capitolo della ginecologia in cui purtroppo in Calabria siamo un po' carenti, soprattutto a livello di strutture pubbliche e quindi praticamente in prospettiva è quello di far sì che la denatalità che c'è stata negli ultimi anni venga a essere, diciamo, debellata e soprattutto superata con questa proposta, nostra proposta insomma. Oggi è una giornata importante, a festa della donna, abbiamo voluto far coincidere l'istituzione di questo servizio che secondo noi ha un doppio aspetto, sanitario e sociale. Sanitario perché abbiamo anche l'orgoglio di seguire le coppie che purtroppo insomma hanno problemi di fertilità e sociale perché con il tasso di denatalità insomma che aumenta noi abbiamo il dovere come operatori sanitari di accompagnare le donne verso eventuale insomma un'eventuale assistenza che possa loro donare la fertilità. Grazie. Grazie.